Perchè non ci vede proprio? Non ci vede proprio, effettivamente. Anche questo è Espo. Dari solo sopra altre persone, consentire alle persone di capire che il mondo è simpositissimo perché ogni persona sia in grado di apropriarsi la sua capacità di essere protagonista del cambiamento. Non aspettare gli altri, ma essere stesso protagonista del cambiamento. Ecco, allora, quello che abbiamo visto era per farvi capire come lei che ci sono 600 altri che sono rimasti nei paesi africani in campo di Buknafaso con cui abbiamo lavorato e che hanno quindi anche loro bisogno di più attenzione per renderli conto che il riuso, il riciclaggio dei rifiuti può essere una cosa. Grazie. 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 Grazie.